Qual è la differenza tra una persona che rumina, pensa troppo, un overthinker e una persona che invece questo problema lo ha risolto, non ce l'ha più o non ce l'ha mai avuto? Poniamo il caso che succeda qualcosa, un evento che è scomodo. Che fa l'overthinker? Che fa la persona, diciamo, mediamente razionale? E inizia a pensare a una soluzione, cerca in tutti i modi di trovare una soluzione, qualcosa che riesca a risolvere questa scomodità e a ritornare a un equilibrio migliore. Molti problemi hanno oggettivamente delle soluzioni, tu puoi fare qualcosa, quindi questo atteggiamento che ti porta a un periodo immersivo di pensieri e quindi magari questa persona può pensare troppo, può essere una persona che rumina eccessivamente, però poi arriva a una soluzione e quindi questo è funzionale, gli risolve la questione. Anche se avere un approccio eccessivamente immersivo di questo tipo può causare dei problemi nel frattempo che cerchi la soluzione perché ti distrai dalla vita che comunque scorre, che comunque devi fare, ci sono delle persone che comunque frequenti e quindi ti potrebbe distogliere dalla loro presenza o per meglio dire potrebbe togliere la tua presenza dalle attività che fai insieme a loro. Se hai vissuto questo sai a cosa mi riferisco e te lo hanno anche fatto notare perché dà un po' fastidio. Nel caso in cui quella situazione non abbia una vera soluzione oggettiva, ma la soluzione sia l'accettazione di una scomodità, di qualcosa che è così e con il quale devi imparare a confrontarti, allora può succedere che la persona che pensa tanto, molto razionale, che sfocia nell'eccesso di pensiero, nell'overthinking e addirittura nella ruminazione, per non dire persino in alcune forme di pensiero ossessivo, non ne esce più, diventano dei loop da quali non esce. Perché? Perché arrivare a una soluzione acquieta, toglie quella scomodità emotiva. Siccome la soluzione qui è accogliere la scomodità emotiva, la persona che è portata a pensare così tanto, avere questo approccio tra virgolette, passami il termine diciamo iperrazionale, è una persona che non sta bene nella scomodità emotiva e usa la cognitività per non sentire così tanto quelle emozioni scomode. E siccome in questo caso è l'accettazione la soluzione, si ritrova costretto, costretta ad accogliere quella scomodità emotiva, che non vuole. E quindi ricomincia a pensare eccessivamente, fin quando arriva a una situazione in cui la soluzione è accogliere la scomodità emotiva, che non vuole. E quindi ricomincia a pensare eccessivamente, e qui il loop si ripete. Quindi, che cosa significa? La persona che non incede in questo, che fa, ok, la soluzione è l'accettazione, quindi devo imparare a stare all'interno di un'emozione scomoda, senza cedere a questa tendenza a razionalizzare tutto, ma lasciandomi abitare da qualcosa che non mi piace. Quindi, cosa fa di differente la persona che, diciamo, ha risolto il problema con questi loop di pensiero? Accoglie l'emotività e impara a starci dentro. E quando stai dentro all'emotività, che cosa succede? Che le emozioni hanno un picco e poi si abbassano. E questo apre la strada a un nuovo modo di affrontare i problemi e le situazioni senza bisogno di avere questi loop. Se ti sono stato d'aiuto, scrivimelo nei commenti. Ciao!